Assessore, oggi sono stati presentati i saloni 2013, un evento che sicuramente segnerà la città e segnerà soprattutto il mercato italiano. Quali sono le sue impressioni? Le mie impressioni sono che in un momento di grandissima difficoltà il fatto che la grande filiera del design e la città siano così coese, siano così avvighiate l'una all'altra, si presentino insieme sia un grande elemento di vantaggio nella competizione internazionale. Milano è la città del design, il design è la linfa vitale di questa grande metropoli e il salone rappresenta benissimo sia nel suo grande polo straordinario, commerciale, culturale e artistico della Fiera di Europeo sia nelle migliaia di iniziative che la città accende questa fusione che è la vera grande energia che le altre città non hanno.